Questa lezione è dedicata ad illustrare come portare su un piano generico un segmento di cui conosciamo la reale lunghezza attraverso il metodo del ribaltamento del piano generico. In realtà di questo metodo abbiamo già parlato nella scorsa lezione che potete ritrovare all'interno di questo canale youtube, però nella scorsa lezione l'abbiamo analizzato con lo scopo di determinare le reali dimensioni di un segmento o di un altro qualsiasi ente geometrico o figura piana quando esso si trova su un piano generico. Adesso la analizziamo con l'intento opposto, portare il segmento o un altro qualsiasi ente geometrico o figura piana su un piano generico quando se ne conoscono le reali dimensioni. Questa operazione, opposta al ribaltamento del segmento per determinarne la vera lunghezza, prende il nome di raddrizzamento. Portare un segmento sul piano generico. Immaginiamo dunque di avere le proiezioni ortogonali di un piano generico alfa, cioè le sue due tracce di primo di alfa e di secondo di alfa, e di voler portare sopra di esso un segmento che abbia una precisa lunghezza. Se infatti non è necessario attribuire una precisa lunghezza al segmento, per portarlo sul piano generico non è certo necessaria una tecnica così elaborata. Sarà sufficiente tracciare una retta qualsiasi tale da appartenere al piano generico e prenderne un segmento a piacere. Per attribuire al segmento una misura precisa, dobbiamo invece poter vedere il piano generico in vera grandezza, con le sue reali dimensioni. E quindi, proprio come abbiamo visto nella scorsa lezione, occorre ribaltare il piano alfa attorno ad una qualsiasi delle sue due tracce, la prima o la seconda. Se ruotiamo il piano attorno alla prima traccia, lo andiamo a ribaltare sul PO. Mentre se ruotiamo il piano attorno alla seconda traccia, lo andiamo a ribaltare sul PV. Infatti, ribaltare un piano, proiettante o generico che sia, attorno ad una delle sue due tracce, permette di vedere in vera grandezza qualsiasi oggetto che gli appartiene, in questo caso un segmento. Però quando si tratta di un piano generico, differentemente dal piano proiettante, non possiamo eseguire direttamente questo ribaltamento. Questo perché, mentre nel piano proiettante sappiamo che le due tracce devono formare un angolo di 90 gradi, nel piano generico non sappiamo quale sia l'angolo che le due tracce formano l'una rispetto all'altra. Per dialogare con il piano generico abbiamo bisogno di un interprete e questo interprete è sempre il piano proiettante. Scegliamo dunque, arbitrariamente, di ribaltare il nostro piano generico attorno alla prima traccia, in modo da portarlo sul piano orizzontale PO. Quindi, la prima traccia resta dov'è, mentre la seconda traccia si trova da qualche parte nel piano orizzontale PO. Per eseguire tale ribaltamento, dobbiamo prendere un piano proiettante beta, perpendicolare in PO, e tale da avere la prima traccia, quella obliqua, perpendicolare alla prima traccia del piano generico alfa. Chiamiamo 1 il punto in cui le due prime tracce si intersecano e 2 il punto in cui si incontrano la prima e la seconda traccia di beta. Chiamiamo invece 3 il punto in cui si incontrano le seconde tracce. Puntiamo con il compasso nel punto O, punto d'incontro tra le tracce di alfa, con apertura O3, e tracciamo un arco di circonferenza che riporta questa misura su T' di beta. Chiamiamo il punto trovato 3 ribaltato. La seconda traccia del piano, a ribaltamento avvenuto, passerà per il punto O, come del resto faceva anche prima, e per 3 ribaltato. Ecco dunque che abbiamo ribaltato il piano generico attorno alla prima traccia, e abbiamo determinato l'angolo in vera ampiezza che le due tracce formano tra loro. La vera lunghezza del segmento andrà disegnata da qualche parte dentro il piano in vera grandezza, cioè nello spazio limitato da T' di alfa e T' di alfa ribaltato. Ritroviamo all'interno del piano generico le proiezioni ortogonali del segmento PQ. Da P ribaltato e da Q ribaltato si mandano dunque due linee perpendicolari a T' di alfa. Su queste perpendicolari si trovano le prime proiezioni dei due punti, cioè P' e Q' ma ancora non sappiamo esattamente dove. Le quote che P ribaltato e Q ribaltato hanno rispetto a T' di alfa sono le quote che i punti hanno nella realtà e quindi in seconda proiezione. Riportiamo queste quote sul piano generico, mandando da P ribaltato e da Q ribaltato due linee parallele a T' di alfa, che incontrano T' di alfa ribaltato in due punti. Da qui puntiamo in O con il compasso, con apertura pari alle altezze dei due punti, altezze che riportiamo con una rotazione su T' di alfa. Da qui mandiamo due rette parallele alla linea di terra. Su queste rette si trovano le seconde proiezioni dei due punti, cioè P' e Q' ma ancora non sappiamo esattamente dove. Dalle altezze riportate su T' di alfa ribaltato si mandano due perpendicolari a T' di alfa che incontrano la linea di terra. Da lì mandiamo due parallele a T' di alfa. Dove esse intersecano le due perpendicolari a T' di alfa condotte da P ribaltato e Q ribaltato, là si trovano le prime proiezioni dei punti, cioè P' e Q'. Le seconde proiezioni si trovano dove le rette di richiamo condotte dalle prime proiezioni si intersecano con le rispettive quote. Da notare la particolare corrispondenza di rette e punti. Nulla vietava di ruotare il piano attorno alla sua seconda traccia naturalmente. In questo caso il piano risultava ribaltato sul PV. Per eseguire tale ribaltamento dobbiamo prendere un piano proiettante beta, stavolta perpendicolare in PV, e tale da avere la seconda traccia, quella obliqua, perpendicolare alla seconda traccia del piano generico alfa. Chiamiamo 1 il punto in cui le due seconde tracce si intersecano. Chiamiamo invece 3 il punto in cui si incontrano le prime tracce. Puntiamo con il compasso nel punto O con apertura O3 e tracciamo un arco di circonferenza che riporta questa misura sotto il secondo di beta. Chiamiamo il punto trovato 3 ribaltato. La prima traccia del piano a ribaltamento avvenuto passerà per il punto O, come del resto faceva anche prima, e per 3 ribaltato. Ecco dunque che abbiamo ribaltato il piano generico attorno alla seconda traccia e abbiamo determinato l'angolo in vera ampiezza che le due tracce formano tra loro. La vera lunghezza del segmento andrà disegnata da qualche parte dentro il piano in vera grandezza, cioè nello spazio limitato da T' di alfa e T' di alfa ribaltato. Ritroviamo all'interno del piano generico le proiezioni ortogonali del segmento PQ. Da P ribaltato e da Q ribaltato si mandano due linee perpendicolari a T' di alfa. Su queste perpendicolari si trovano le seconde proiezioni dei due punti, cioè P' e Q' ma ancora non sappiamo esattamente dove. Gli aggetti che P ribaltato e Q ribaltato hanno rispetto a T' di alfa sono gli aggetti che i punti hanno nella realtà e quindi in prima proiezione. Riportiamo queste misure sul piano generico, mandando da P ribaltato e da Q ribaltato due linee parallele a T' di alfa che incontrano T' di alfa ribaltato in due punti. Da qui puntiamo in O con il compasso, con apertura pari agli aggetti dei due punti. Aggetti che riportiamo con una rotazione su T' di alfa. Da qui mandiamo due rette parallele alla linea di terra. Su queste rette si trovano le prime proiezioni dei due punti, cioè P' e Q', ma ancora non sappiamo esattamente dove. Dagli aggetti riportati su T' di alfa si mandano due perpendicolari a T' di alfa che incontrano la linea di terra. Da lì mandiamo due parallele a T' di alfa. Dove esse intersecano le due perpendicolari a T' di alfa condotte da P ribaltato e Q ribaltato, là si trovano le seconde proiezioni dei punti, cioè P' e Q'. Le prime proiezioni si trovano dove le rette di richiamo sono condotte dalle seconde proiezioni. Da notare la particolare corrispondenza di rette e punti. Questa tecnica è da ricordare, perché si rivelerà molto utile anche più avanti, quando parleremo delle figure piane e delle sezioni. La tecnica del raddrizzamento viene infatti utilizzata per portare sul piano generico una figura di cui si conoscono le reali dimensioni, solitamente poligoni regolari. Se questo video vi è piaciuto, potete trovare la trascrizione di questa lezione nel mio blog dedicato al disegno tecnico. Sempre nel blog sono presenti tantissime altre lezioni e tanto materiale didattico da scaricare. L'indirizzo è aliceappunti.altervista.org slash blog. Il link è comunque presente nella descrizione del video. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.